Si intitola Energia Positiva, la mostra di Arvedo Arvedi inaugurata oggi pomeriggio 7 dicembre e che proseguirà fino al 30, nella Galleria Mad di Lucia Quasimodo in via Cavur 59 a Mantova. L'artista veronese espone le sue opere, che sono l'evoluzione di un percorso trentennale iniziato a Chicago con il suo maestro, lo statunitense John David Mooney. Arvedi presenta anche i progetti Arte da vestire, opere d'arte sotto forma di coloratissime pashmine da indossare rivestendo il ruolo di corporate artist al servizio delle aziende. A presentare l'artista, il noto critico d'arte mantovano Riccardo Braglia. Sono molto molto contento di avere finalmente Arvedo a Mantova e ho avuto la fortuna di seguirlo fin dall'inizio, quando ha cominciato le prime cose, evolvendosi nel tempo in una maniera straordinaria, sempre alla ricerca di soluzioni artistiche ed estetiche nuove, con una fantasia, un senso del colore incredibile e poi da ultimo queste pashmine che io trovo incantevoli, in cui lui riproduce naturalmente le sue opere. Ora parola all'artista, che delinea la struttura della sua mostra e ne spiega il titolo. Ho scelto questo nome perché in questo momento di depressione voglio fare una mostra che sia piena di energia positiva per le aziende e per tutti coloro che verranno ad ammirarla. Infatti ho trasformato alcuni dei miei quadri in pashmine. Un altro esempio del mio lavoro è l'elaborazione artistica dei loghi aziendali, elaborati in maniera divertente, energetica e molto variata. Come artista sono anche molto sensibile al discorso ambientalista. Infatti alle mie spalle vedrete quest'opera che si chiama Ammazzona, il pomone verde sta bruciando. L'opera si compone in un albero che ha anche due polmoni che stanno bruciando.